Caso a BB di Marostica c'è un acquirente, la società Artitec di Romano Dezzelino. Verrebbe da dire buone notizie, ma di buono c'è gran poco. Sul pire di guerra i sindacati che lanciano un appello alle istituzioni perché convochino un tavolo con l'imprenditore che dovrebbe salvaguardare i posti di lavoro. Abbiamo bisogno di rassicurazioni. Rassicurazioni date dal fatto che si chiedono ai lavoratori standard di raggiungere degli standard quantitativi e qualitativi che i lavoratori stessi dicono di non poter raggiungere dato dalla manutenzione che non avviene ormai negli ultimi anni, gli impianti che sono obsoleti, alcuni in fine vita e ci sono questioni che ci preoccupano a livello di sicurezza. A questo si aggiunge che dei 100 lavoratori occupati nell'azienda solo a 10 di questi sarà garantito il posto a condizioni che però alla Filctem CGL non stanno bene. Abbiamo tutta una serie di incertezze e non certezze. L'ABB rifiuta di farci incontrare il nuovo imprenditore ma la cosa più grave è che ha consegnato due lettere una di impegno all'assunzione ad Artitec, che è il nuovo imprenditore dimettendosi da ABB. Quindi ABB scarica i lavoratori con una dimissione in più un'altra lettera che libera ABB da qualsiasi azione legale che i lavoratori potressero intraprendere con ABB stesso. I lavoratori, come si legge anche nella lettera che hanno ricevuto in queste ore, scade l'ultimatum per la firma. I lavoratori ovviamente non hanno nessuna intenzione di firmare le lettere di impegno proprio perché vogliono e ci hanno chiesto queste rassicurazioni. E non vogliamo spade di damocle sulla testa per cui i lavoratori vengono minacciati o firmi o non riceverai nulla di quello che sarà l'ingendivo previsto per il resto dei lavoratori.